Benvenuti a Telecrullis, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra l'Assemblea Legislativa dell'Umbria e l'Antinazionale Sordi, Consiglio regionale dell'Umbria. Nella seduta di martedì 15 giugno 2021, l'Aula ha discusso una serie di interrogazioni a risposta immediata presentate dai consiglieri regionali e rivolte agli assessori. Il consigliere Andrea Fora, a patto civico, ha chiesto alla Giunta di attivarsi per promuovere e distituire d'intesa con il Comune di Assisi, la Diocesi, la Conferenza Episcopale Umbra, le Comunità Francescane di Assisi e il raccordo con il Governo, un comitato regionale per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, 3 ottobre 1226, anche per allocare adeguate risorse regionali, nazionali ed europee per l'organizzazione e promozione dell'evento. L'assessore Paola Gabiti ha risposto che questo evento rappresenta un avvenimento importante e strategico a cui la Regione si farà trovare pronta. Dobbiamo quindi lavorare per ottenere un comitato nazionale, ha detto, ma anche per una legge speciale dell'evento che consenta di attivare fonti di finanziamento. Thomas De Luca, consigliere del Movimento 5 Stelle, ha domandato chiarimenti alla Giunta circa gli effetti del nuovo decreto semplificazioni sull'Umbria e sulla conseguente possibilità che il combustibile da rifiuti possa essere bruciato in cementifici e inceneritori. L'assessore Roberto Morroni ha replicato che in Umbria ci sono diversi impianti divisi per regimi di iscrizione e autorizzazione per produrre energia da rifiuti, ma solo tre impianti potrebbero essere interessati alla sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS, a cui si aggiungerebbero le cementerie di Gubbio e Spoleto. La consigliera del Partito Democratico, Simona Meloni, vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, ha interrogato l'assessore Luca Coletto per sapere quali azioni intende intraprendere la Giunta per evitare la chiusura dei circoli sociali e ricreativi e se intende stanziare fondi propri regionali a sostegno di queste realtà. L'assessore Coletto ha detto di essere consapevole che gli enti del terzo settore devono sostenere dei costi di natura fissa, spesso consistenti. È stato previsto un fondo nazionale straordinario per il sostegno agli enti del terzo settore, con una dotazione iniziale di 70 milioni di euro per il 2021, poi incrementato con ulteriori 100 milioni. Ma il decreto è ancora fermo al Ministero dell'Economia per le verifiche di copertura e non è ancora approdato in conferenza delle regioni. Tommaso Bori e Michele Bettarelli del Partito Democratico hanno interrogato l'assessore Luca Coletto per sapere se sono stati previsti protocolli specifici e piani di riorganizzazione per la rete dell'emergenza urgenza tra sanità territoriale ed ospedaliera, con particolare attenzione al tema della propriatezza della centralizzazione del paziente. L'assessore ha risposto che la regione, durante la pandemia, si è dovuta attivare in tempo reale per ampliare i posti letto, garantendo la sicurezza degli operatori e dei ricoverati. Abbiamo provveduto ad ampliare i posti di terapia intensiva, spesso molto limitati. Rispetto al personale, medici per l'emergenza urgenza, anestesisti e rianimatori, non è facile trovarli, ha detto l'assessore, ma non è perché l'Umbria non li ha cercati, lo ha fatto con tutte le sue forze, ma con la stessa determinazione hanno cercato di accaparrarsi i professionisti, anche le altre regioni. Noi, ha detto Coletto, scontiamo un Vumus gravissimo. C'è stata una miopia da parte del governo che ha messo il numero chiuso nella facoltà di medicina, oltre al limite per tanti anni di borse di studio di specialità per i laureati abilitati. Michele Bettarelli, consigliere del Partito Democratico, ha chiesto quali sono gli intendimenti della giunta regionale rispetto alla situazione delle strade regionali gestite dalle province di Perugia e Terni. L'assessore Melaseche ha risposto che nel periodo 2018-2023 la regione ha stanziato 5 milioni all'anno per la manutenzione delle strade regionali, in linea con quanto richiesto dalle province. Il problema, ha detto l'assessore, è il recupero del pregresso ed è aperto un tavolo sul personale trasferito e l'IVA sui trasporti, su cui le precedenti amministrazioni ben poco hanno fatto. La consigliera Donatella Porzi, Partito Democratico, ha domandato spiegazioni circa il mancato utilizzo dei fondi nazionali, circa 60 milioni, stanziati per affrontare l'emergenza sanitaria. L'assessore Luca Coletto ha risposto che al tavolo degli adempimenti sono emerse criticità pregresse sulla sanità regionale, dato che nel periodo 2017-2019 è stato garantito il pareggio solo grazie a poste straordinarie. Il mancato uso di parte delle risorse nazionali è legato alle difficoltà di reperimento di alcune figure mediche necessarie per l'emergenza. I fondi non spesi nel 2020 potranno comunque essere interamente utilizzati nell'anno in corso. Paola Fioroni, consigliere regionale della Lega, ha chiesto alla giunta regionale se intende riqualificare e potenziare l'ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto. L'assessore Coletto ha risposto che l'ospedale di Spoleto è uno dei sette dove il Ministero ha deciso di investire per una riorganizzazione delle terapie intensive come DEA di primo livello. Quello di Foligno-Spoleto sarà un polo unico che poggia su due gambe con compiti diversi, con l'emergenza urgenza a Foligno e il recupero di tutte le funzioni ospedaliere a Spoleto, dando continuità a chirurgia, oncologia, radioterapia. È prevista la riattivazione del punto nascita e stiamo recuperando personale, ha detto l'assessore, per ginecologia e pediatria. I consiglieri regionali Francesca Peppucci, Daniele Carissimi, Eugenio Rondini e Daniele Nicchi della Lega hanno chiesto all'esecutivo di Palazzo Donini di conoscere lo stato attuale dei servizi bancari attivi nelle comune di Casterritaldi, sapere se la giunta ha esaminato le problematiche della chiusura delle filiali bancarie nei piccoli comuni umbri, rendere noto quali azioni intende mettere in campo per tutelare i diritti dei cittadini di piccole realtà dell'Umbria. La presidente della regione, Donatella Tesei, ha spiegato che la chiusura di sportelli nei centri minori è un tema molto impattante e questa giunta regionale, ha assicurato, è impegnata insieme agli altri enti locali a una sensibilizzazione delle banche sulla tutela dei servizi ritenuti essenziali dalla popolazione, cercando di salvaguardare presidi e servizi soprattutto nelle aree interne, ma si deve considerare, ha detto la presidente Tesei, l'autonomia degli istituti bancari, a cui non possiamo imporre delle scelte. Va avanti una interlocuzione per garantire tali servizi alle comunità, con attenzione soprattutto ai comuni più piccoli. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha proseguito i lavori con l'elezione dell'Avvocato Giuseppe Cafforio, quale garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. Il garante contribuisce a garantire i diritti delle persone negli istituti penitenziari in esecuzione penale esterna, sottoposta a misure cautelari personali, il stato di arresto o presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio. L'Assemblea legislativa ha poi espresso parere favorevole alla mozione di Simona Meloni del Partito Democratico che impegna la Giunta a verificare e potenziare il livello di assistenza nel territorio regionale rispetto ai disturbi del comportamento alimentare. Il documento chiede all'esecutivo di Palazzo Donini di verificare il livello di assistenza nel territorio regionale dei servizi residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali che operano nella diagnosi, cura e assistenza dei soggetti affetti da disturbi del comportamento alimentare. Approvata all'unanimità la mozione dei consiglieri Valerio Mancini, Stefano Pastorelli, Paola Fioroni e Daniele Nicchi della Lega che impegna la Giunta ad avviare un confronto con gli istituti di credito presenti nel territorio regionale e ad attivarsi in tutte le sedi istituzionali necessarie per scongiurare la chiusura delle filiali bancarie, in particolare nei piccoli comuni, dove la presenza degli sportelli bancari costituisce un servizio essenziale per i cittadini e per le imprese che operano nel territorio di riferimento. È tutto per questa edizione di Telecrullis, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra l'Assemblea Legislativa dell'Umbria e l'Ente Nazionale Sordi, Consiglio Regionale dell'Umbria. Grazie per la visione!